ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture un caloroso benvenuto a tutti quanti anime veramente io ricambio il vostro affetto e vi ringrazio di essere sempre qua su questo canale così numerosi ma anche i vostri commenti quello che ci diciamo in privato eccetera io sono veramente grata a voi perché allo stesso tempo in cui voi apprendete delle cose le apprendo anch'io quindi è uno scambio di energia positiva continuo quindi mi auguro che chi è in un percorso insieme a questo canale lo continui e possa finalmente trovare insomma la sua luce la sua energia come a molti sta accadendo sono molto contenta grazie anche a chi mi sta testimoniando le vincite che ha fatto grazie ai video sui numeri sono veramente contenta perché tantissime persone hanno vinto e altrettanto tante di queste persone avevano veramente bisogno sono contenta di aver contribuito e di aver fatto fluire questa energia e abbiate fede che comunque le energie qua si muovono su questo canale quando sono ispirata a darvi numeri vedete che prima o poi escono anche abbastanza velocemente nel giro di neanche dieci giorni no con tutte le estrazioni ovviamente che ci sono ogni due giorni ma nel giro di poco tempo comunque escono quindi sono contenta adesso quando sarò ispirata vi farò un altro video con i numeri per oggi invece andiamo per quelli che hanno delle difficoltà in questo momento sul lavoro e ne sento diversi facciamo diverse formule sempre grazie al maestro medico cristiano tenka che ci dà queste formule chi lo vuol seguire lo segua chi ha i libri insomma chi non ce l'ha li compri chi insomma già lo segue e sa comunque come come funziona il lavoro di cristiano tenka molto bene altrimenti vi invito comunque ad informarvi perché veramente hanno dei poteri queste parole veramente testati da lui e sono veramente fenomenali ricordo come parentesi di andarvi a vedere il video della genesi della pentasfera se volete ve lo metto in descrizione per vedere come si può utilizzare io vi dico semplicemente oggi non la metto perché ce l'ho impegnate le mie genesi e pentasferi in altri lavori però sapete che potete la frase che io vi dirò le frasi anzi perché sono diverse le frasi che vi dirò potete o uno dirle a voce e basta oppure inserire la stessa frase come io la dico come la vedrete in sovraimpressione scriverla in un post it quadrato e inserirla in genesa un'ora al giorno va bene un'ora al giorno dopo sette giorni lo stesso foglietto va rifatto va bene se per voi va bene anche il lato quadrato della genesa se è incluso qualcun altro va bene il triangolo insomma il lato del triangolo va bene questo andate a vedere per le spiegazioni su come si usano queste cose il video della attivazione di genesa in pentasfera ma anche i video sulle altre parole magiche che ho messo di diversi tipi che è sempre qui sul mio canale dove spiego comunque come fare questi foglietti io vi dico che non vi dovete preoccupare se non avete la genesa o non avete la pentasfera perché funzionano anche a voce queste parole sono molto sono proprio fenomenali importantissime quindi non vi preoccupate se non avete la genesa se non fate il biglietto va bene anche recitarle solo e basta va bene niente stress questo canale zero stress allora qua come vedete ho il mio mazzo di oracoli messaggi divini chi vuole lega la descrizione del video chi gli piace se lo può acquistare e abbiamo le nostre risposte degli angeli farò tre comunque letture veloci prima diciamo le parole poi faremo una lettura per tre letture appunto una per tre e faremo proprio un attimo vediamo proprio il messaggio che ti deve arrivare dai messaggi divini poi ti faccio fare una domanda alla quale risponderanno gli angeli la domanda ti dico subito che puoi fare è sia relativa al lavoro visto che in questo video si parla di lavoro o anche di qualsiasi altra cosa perché sapete bene che la singola necessità divina è sempre perfetta e non è mai il momento sbagliato va bene per il divino non esiste questa cosa se volete chiedete anche qualcos'altro al di là dell'argomento di questo video di cui parlo di lavoro ma voi chiedete pure quello che volete va bene allora le stese ve le faccio vedere dopo adesso partiamo con le parole le parole si recitano dalle tre alle cinque volte al giorno tre o cinque volte il mattino tre o cinque volte il pomeriggio tre o cinque volte la sera chi ha la genesa e vuol fare il fogliettino solo un'ora al giorno però solo un'ora al giorno va bene e fino a quanto domanda che fanno molti fino alla realizzazione quindi non c'è per ognuno il cammino è diverso quindi per tanti lo sblocco sarà più veloce per tanti un pochino più lungo l'importante è avere tanta tanta fede in quello che si fa ringraziare sempre avere sempre come base però anche un lavoro di crescita spirituale personale e con le energie non guasta perché vi aiuta comunque a velocizzare la manifestazione o come dicono i nostri carissimi amatissimi maestri ascesi la precipitazione quindi partiamo allora chi vuole può recitare sopra me oppure se le fa da sola o da solo nella descrizione del video lo stesso ve le metto se non fate a tempo a leggerle qua in sovraimpressione fate voi come volete va bene come volete libera scelta zero stress va bene l'importante è che non ci mettete sopra dello stress va bene allora facciamo così adesso partiamo con le parole e vi spiego cosa significano e poi dopo ve la leggo con i dovuti accenti ovviamente la prima partiamo con la prima della quale vi parlerò è per trovare un buon lavoro e anche pagato bene ok quindi mi rivolgo a chi deve trovare proprio un lavoro pagato bene la parola la frase anzi è la seguente questa era per trovare un buon lavoro e anche pagato bene per chi ha un'attività può tranquillamente recitare quest'altra per trovare quindi nuovi clienti e anche dei buoni clienti quindi aumentare il flusso di persone che entrano nella vostra attività chi vuole trovare un lavoretto extra quindi già lavora ma vorrebbe no insomma aumentare qualche entrata con qualcosina quindi con un secondo lavoretto diciamo deve dire questa opus additus apparet opus additus apparet opus additus apparet potrebbe anche trovare dei nuovi clienti in più nel lavoro standard vostro va bene potrebbe anche aumentare ancora di più la formula precedente a questa oppure chi vuole proprio ancora un altro lavoretto separato dal primo è adesso molto importante l'ultima che vi dico è per chi soffre comunque nel lavoro nel senso vi invidie colleghi insomma più o meno malefici chiacchiere ambiente lavorativo pesante no parassiti vampiri energetici eccetera eccetera sapete a cosa mi riferisco quindi la seguente formula è per migliorare l'ambiente proprio lavorativo eliminando anche le competizioni quindi se c'è qualcuno proprio che punzecchia no la competitività e anche la gelosia e l'invidia che abbiamo attorno nel lavoro la formula è questa certamen atque invidia evanesco certamen atque invidia evanesco certamen atque invidia evanesco quindi il lavoro sarà insomma dove tu ti trovi proprio l'ambiente del tuo lavoro sarà migliore rendere più piacevole il luogo di lavoro e quindi si cerca anche con questa formula di togliere le invidie e le gelosie tra i colleghi le competitività insomma tutte queste cose qua è cosa che danno molto fastidio e che impedisce diciamo una serena permanenza nell'ambiente lavorativo cosa che sento dire a tanti molti in privato con questi problemi qua ecco perché ve le ho trovate mi raccomando dalle tre alle cinque volte al giorno in tre momenti diversi della giornata queste formule va bene e potete anche metterle in genesa chi non ce l'ha non importa le dica le ripeta che funzionano lo stesso anche senza genesa mi raccomando adesso ti invito a scegliere un messaggio per te di oggi allora il il primo messaggio è per il quadrifoglio bianco eccolo qua il bianco il secondo è il quadrifoglio rosso il terzo il quadrifoglio arancione uno bianco due rosso tre arancione prendiamo un messaggio divino per il quadrifoglio bianco e lo appoggiamo qua nel nostro stand della carta principale di oggi del messaggio il quadrifoglio bianco questa eccola qua il quadrifoglio rosso questa il quadrifoglio arancione eccola qui poi io ti inizio adesso con il colore che tu hai scelto e poi ti faccio fare la domanda partiamo con il primo quadrifoglio bianco chi ha scelto la prima lettura il primo messaggio vediamo cosa c'è per te in te si sono risvegliate capacità spirituali e psichiche numero 17 17 o anche l'1 e il 7 allineamento ai corpi spirituali più alti quindi qua abbiamo comunque una crescita una energia che si va a spostare che si sta spostando che si è risvegliata quindi molti all'ascolto stanno agganciandosi anche ad energie più alte più spirituali ad altre sfere va bene anche la psichicità qua è coinvolta in questa carta con l'allenamento ai corpi spirituali più alti accade anche questo la psichicità e la spiritualità che si risvegliano insieme e tu percepisci proprio queste capacità in più che hai quindi potresti agganciarti veramente a ricevere qualche messaggio molto importante dagli esseri di luce adesso quadrifoglio bianco la fai una domanda mentre mischio le carte vediamo qual è la risposta per te per il quadrifoglio bianco fai la domanda vediamo la risposta qual è la risposta è un no secco qua qua abbiamo un no quindi non è ancora il momento per te lettura 1 di quello che hai chiesto probabilmente c'è un piano diverso cioè una manifestazione che noi chiamiamo tempistica ma in realtà è prettamente tridimensionale perché nell'universo non esiste il tempo va bene quindi ancora questa cosa che tu chiedi nella terza dimensione non la vedi ma non è detto che non ci sia già la manifestazione di quello che tu chiedi in un'altra e più alta dimensione per il momento per questa dimensione la risposta è un no va bene lettura 1 ti ringrazio se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io proseguo togliamo questa chi ha scelto il quadrifoglio rosso quindi il secondo messaggio di oggi per te qual è via il vecchio avanti il nuovo bene 55 cambiamenti vantaggiosi in arrivo il numero 5 è molto importante per te e proprio il 55 è venuto fuori qua è via il vecchio avanti il nuovo quindi qua se vogliamo rimanere nella sfera lavorativa e se incerta o incerto se cambiare fare un passo diverso da dove sei adesso la risposta è sì quindi via il vecchio avanti il nuovo se sulla giusta strada e ci sono dei cambiamenti in arrivo quindi la manifestazione di quello che tu vorrai ci sarà perché i cambiamenti sono all'orizzonte se invece è anche un altro settore non importa va benissimo anche se hai chiesto qualcos'altro comunque sia vale la stessa cosa via il vecchio avanti il nuovo lo stesso sia che sia lavoro se che sia un altro settore casa lavoro qualsiasi cosa ciò che era stantio vecchio ormai per te va bene non serve più non è più positivo non è più benevolo per te non ti fa fare più dei passi avanti ormai siamo rimasti fermi là quindi avanti il nuovo ma sì ben venga cambiamenti vantaggiosi in arrivo perfetto benissimo allora lettura 2 chi ha scelto il quadrifoglio rosso fai la domanda adesso mentre mischio di qualsiasi settore qualsiasi domanda vuoi eh lettura 2 chiedi aiuto agli altri eccola qua per il quadrifoglio rosso lettura 2 c'è da chiedere un aiuto quindi probabilmente il passo che tu vuoi fare richiede comunque che tu chieda aiuto a qualcuno magari ci sono persone che possono aiutarti quindi non devi fare tutto da sola o da solo c'è da coinvolgere eventualmente magari ti serve qualche informazione no qualche dritta qualcuno che già sa la cosa meglio di te qualcuno che è già nell'ambiente dove anche tu vorresti e quindi ne sa più di te chiedi aiuto a qualcuno che tu sai oppure no potrebbe essere anche un aiuto a una persona particolarmente cara a te che anche se non ne sa niente di quello che tu vuoi fare però è così magari che ne so saggia ti figli di quella persona no che sai che è un suo parere per te è importante fallo pure ci dice qua va bene chiedi pure aiuto agli altri quindi quello che tu hai chiesto qualsiasi settore sia mi raccomando c'è qualcuno che ti può aiutare chiedi pure aiuto non devi fare tutto da sola o da solo va bene condividi un po anche quelle che sono le tue incertezze le tue perplessità va bene le tue paure no non c'è da vergognarsi di questo chiedere aiuto fa veramente a volte anche miracoli è però insomma vedi tu chi è la persona la persona deve essere veramente una persona affidabile va bene questo era per te lettura 2 grazie mille se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io vado avanti con l'altro quadrifoglio eccoci qua chi ha scelto la terza lettura il quadrifoglio arancione vediamo qual è il messaggio oggi per te terza lettura sono con te chiamami tre volte infatti siamo alla terza lettura tre volte terza lettura un 3 anche qua giù 34 3 o 4 gli angeli maestri ascesi sono con te in questo momento qua abbiamo una vicinanza lettura 3 abbiamo veramente una vicinanza questo sono con te chiamami tre volte può essere sia una tua guida o una delle tue guide potrebbe essere un caro defunto va bene allora angeli maestri ascesi qua ci sono delle presenze comunque che ti invitano a chiamare anche tre volte tipo angeli venite angeli venite angeli venite no mie guide venite eccetera eccetera oppure il nome di un caro defunto magari che in questo momento noi percepiamo magari la presenza la sentiamo proprio a pelle chiamiamo il suo nome tre volte e diciamo magari vieni o se non vuoi dire vieni puoi dire assistimi rispondimi dammi la risposta a questa cosa tre volte il tre volte tre come dicono i maestri ascesi il numero è per te il tre o il quattro sono particolarmente fortunati se non proprio il 34 o anche come vertibile 43 gli angeli maestri ascesi sono con te in questo momento quindi c'è una testimonianza di vicinanza a te allora adesso vediamo per il quadrifoglio arancione la lettura 3 fai una domanda adesso mentre mischio vediamo lettura 3 risposta per te è sì un sì pieno quindi qualsiasi sia il settore a cui ti sei rivolta o rivolto qualsiasi sia la domanda è un bel sì netto avrai quello che hai chiesto la cosa che hai chiesto succederà va bene qui c'è magia nella tre proprio sono con te chiamami tre volte vicinanza di esseri di luce la risposta è sì quindi siamo abbastanza andando avanti diciamo qua stiamo per manifestare qualcosa c'è un bel sì addirittura col punto esclamativo quindi proprio un sì molto netto qualsiasi sia il settore ripeto e ricordati questa vicinanza lettura 3 questo è il messaggio per te di oggi se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale e io vi ringrazio tutti vi ricordo mi raccomando le parole magiche da fare va bene per chi vuole proprio sul lavoro un miglioramento un cambiamento o ripulire il posto di lavoro leggete la descrizione del video sia per questi oracoli le mie creazioni sia per le parole magiche per l'argomento di cui abbiamo parlato oggi no in questo video trovate tutto sotto e anche per parlare con me chi vuole fare dei percorsi come personalizzati come fanno già in tante persone leggete sotto come comunicare con me vi ringrazio moltissimo sapete che apprezzo molto le vostre parole e sono anche ricambiate il mio affetto è proprio il vostro affetto è ricambiato anche dal mio affetto grazie mille vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie